Ciao amici del Centroverde, oggi parleremo ancora di Pellenc e dei suoi prodotti a batteria, soffermandoci su una motosega per certi versi unica, la Selyon 12. Compatta, precisa e pratica, queste sono le caratteristiche che fanno della Selyon M12 la motosega da potatura per eccellenza. Da subito si intuisce la potenzialità, dalla sua forma, dal modo di impugnarla, dalla sua grinta che si può percepire dopo i primi tagli. Il peso di appena 2 kg e la sua potenza di 1,2 W è pari a quella di una scoppio con motore da 30 cc. Il motore brushless che utilizza presenta una tecnologia di ultima generazione. La Selyon M12 non possiede una frizione ma una presa diretta con il pignone nella catena. In questo modo si avrà maggiore robustezza e affidabilità. La barra guida è montata su una molla che consente alla catena di tendersi automaticamente. La chiave estraibile integrata consente di accedere al pignone e alla catena in un istante. Inoltre il sistema in dotazione regola la lubrificazione della catena in funzione dello sforzo di taglio richiesto. Per maggiore sicurezza la motosega è dotata di un sensore di rimbalzo ad azionamento elettronico che aziona subito il freno elettrico in caso di caduta o di rimbalzo 8 volte più velocemente rispetto al freno della catena di una motosega con motore a scoppio. Il sistema di autodiagnostica dell'utensile al primo utilizzo verifica che il sensore elettronico di rimbalzo sia attivo e il grilletto di accensione a doppio impulso che evita l'azionamento accidentale della motosega. Inoltre voglio ricordarvi che le cartene Oregon montate sono a rimbalzo ridotto. Il fenomeno del rimbalzo qualora avvenisse sarà molto meno violento rispetto ad una motosega classica. La Sealion M12 per la sua praticità e le ridotte dimensioni diventa interessante anche in abbinamento alle forbice Vignon e Prunion con batteria 250 dotata di secondo attacco. Vi ricordo inoltre che è possibile montare sulla Sealion 12 anche la barra carbon. Per maggiori informazioni su questo articolo clicca il link in descrizione. Iscriviti al nostro canale YouTube, metti mi piace sulla nostra pagina Facebook e collegati al nostro sito internet.